La firma dell'accordo per la produzione della custodia dell'orchidee, oggi firmiamo un altro custodio, ne abbiamo già qualcuno in pista, tutela, muove, può conoscere le orchidee, noi siamo molto contenti, grazie, intanto consiglio attestato, adesso vedo anche io, perché intanto sono delle piante che mi raccoglose, tutte le orchidee sono meravigliose, quelle spontanee, esatto, e poi non fate conoscere, perché noi siamo abituati alle orchidee, quelle più ornamentali, sono orgogliosi di essere custodio delle orchidee, voilà, guarda, io lo firmo anch'io, così, e far la firma con... No, no, sì, voilà, d'accordo che va, grazie, grazie. Facciamo una cosa insieme.